Amici del vero milanista, bentornati all'appuntamento con Tutto Milan. Stasera il Milan giocherà in amichevole contro la Reggiana, in virtù di una clausola presente nel contratto che portò a Kim Mastur dal Granata al Rosso Nero. Tra i convocati di Inzaghi presenti otto ragazzi della primavera. Fischio d'inizio alle ore 19 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia. Intanto ieri progressi importanti per Di Sciglio in allenamento, a rientro da ogni infortunio. Per l'intervista del giorno a Milanello è Alex ad aver risposto ieri alle domande dei colleghi di Milan Channel. Con il Cagliari abbiamo giocato una buona partita, creando molte opportunità, ha dichiarato il centrale brasiliano. Un bel viatico in vista di Palermo dove dovremo conquistare i tre punti. L'amichevole contro la Reggiana e la Sosta ci permetteranno di prepararci al meglio in vista dei rosa-nero. Pazzini invece è stato ospite negli studi del canale tematico Rosso Nero e ha affrontato a 360 gradi diversi temi di Milanello e della sua parentesi rosso-nera. Il primo anno dal Milan ero sereno, avevo fiducia e devo tanto al mistero allegri. Ricordo la tripretta di Bologna, una serata fantastica e il mio arrivo inaspettato a Milanello dopo essere stato 5 minuti solo nella sala trofei di Viaturati. «Lì capisci dove sei arrivato», ha raccontato il pazzo. Parola infine sulla sua storia con Montolivo, compagno di tanti anni dalle giovanili dell'Atalanta al Milan passando per la Fiorentina, poi su El Ceraui e Bonera. È un leader dello sfogliatoio. Spazio al Milan questa mattina solo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La rosa è a titola. Finalmente Van Ginkel, dopo una lunga rincorsa, ha conquistato Inzaghi. L'olandese non ha avuto vita facile anche a causa degli infortuni. Ora è una colonna. Novità importanti riguardano il futuro dell'attaccante Mattia Destro, arrivato a gennaio dalla Roma dopo essere stato preso a casa da Gagliani. I due gol nelle misere e poco incisive sette presenze pare non abbiano convinto la società rosso-nera a spendere la cifra appattuita nella trattativa con il DS giallorosso Sabatini. 16 milioni sono troppi e, considerato anche il rendimento di Menez, sarà proprio il francese l'anno prossimo a ricoprire, con ogni probabilità, il ruolo di numero 9. Chiudiamo infine con la probabile formazione di questa sera, la quale verrà o meno confermata nella riunione tecnica delle 17 eventi di Inzaghi nel ritiro di Reggio Emilia. Abbiati in porta, difesa a quattro composte da Bonera, Paletta, Bocchetti e Albertazzi, centrocampo italo-ganese con Pole, Essien e Montare, mentre il tridente offensivo sarà composto da Suso con Pazzini e il giovane di Molfetta. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito e restate aggiornati sulle pagine del vero milanista. Appuntamento a lunedì nuovamente con tutto Milan. Grazie a tutti.